Parliamo del progetto della Comunità Montana del Triangolo Lariano relativo alla realizzazione di una nuova strada lungo l'argine del fiume Lambro, sui prati tra Caslino d'Erba, Canzo e Asso. Dopo una prima intervista di circa due mesi fa, in studio abbiamo di nuovo Roberto Cerati e Franco Bramani del coordinamento Lambar. Il coordinamento, formato da diverse associazioni locali, ricordiamo, è contrario alla realizzazione di questa nuova strada. Roberto, cosa è cambiato nel frattempo? Grazie innanzitutto per l'invito. Da allora, da quell'intervista, è successo che molte persone che non conoscevano questo progetto si sono interessate e ci hanno chiesto approfondimenti. Di fatto, appunto, la Comunità Montana aveva deciso di costruire una strada lungo il Lambro per saltare il punto in cui si era verificata la frana nel 2010. Molte persone, appunto, sono rimaste sorprese nel venirne a conoscenza, anche perché ormai dopo 12 anni è stato raggiunto un diverso equilibrio per quella zona, che è conosciuta ora da molte persone che passeggiano, utilizzano per scopi ricreativi, proprio perché è una bella area. Devo dire che, appunto, la Comunità Montana in questi 12 anni non ha mai avuto come priorità la riapertura di quella strada, proprio perché, pur avendo delle risorse proprie, di fatto non le ha mai impiegate a quello scopo. Lo studio che definisce quel percorso lungo il Lambro è del 2015. Nel sei anni successivi, la Comunità Montana ha ricevuto ogni anno circa un milione di euro dai fondi dei forontalieri e quindi avrebbe potuto, se l'avesse considerata importante e, appunto, indispensabile, realizzare a Lotti un suo intervento. Interviene solo ora perché ci sono molti soldi che vengono messi a disposizione, quindi in qualche modo li vuole spendere. Però non credo che sia l'utilizzo migliore di questi fondi. Franco, sei stato invitato anche presso una scuola per illustrare i fatti relativi a questo progetto. Com'è andata? Sì, mi ha fatto molto piacere l'essere invitato presso la scuola Media Pueker di Erba. Ho trovato professori e studenti molto attenti e sensibili al problema ambientale e di debito pubblico. Ambientale perché sono rimasti stupiti nel vedere un progetto in mezzo di una nuova strada, in mezzo a dei prati, a fianco di un fiume importante che ha sempre un ruolo importantissimo nel far defluire le acque verso valle e qualora venga riempito di acque impetuose e tumultuose diventerebbe un vero problema. Secondo anche il problema dei soldi, del debito pubblico che verrebbe ulteriormente aumentato. Sì, sono piccoli interventi che però aumentano questo debito. Noi siamo il sesto paese al mondo per debito pubblico e il decimo per risparmio privato. Cosa vuol dire questo? Che i privati sono bravi a gestire i propri denari? Beh, qui ci sarebbe parecchio a discutere. I ragazzi sono stati molto attenti, avrebbero anche piacere a sentire la controparte perché si vuole realizzare una strada proprio lì, erodere quel verde pubblico importante. Per cui tante domande, tanti quesiti, vediamo come si sviluppa anche da parte degli altri giovani che hanno dimostrato parecchio interesse questa faccenda. Il coordinamento Lambar in queste settimane ha organizzato numerosi banchetti informativi e avviato una raccolta firme. Come è stata la risposta della gente? Beh, diciamo che ho sentito anch'io parecchia gente, soprattutto di Scarenna. Sono preoccupati perché se andasse in porto questo progetto ci sarebbe un forte aumento del traffico veicolare nell'abitato di Scarenna che oggi è relativamente anche tranquillo e calmo. Ci sarebbe un forte flusso in andata e in ritorno e ci sarebbe un ingorgo forte su al ponte dell'Oltolina. Non ci sono marciapiedi nella parte interessata perché è stata realizzata ai tempi una pista ciclabile. Oltretutto nella pista ciclabile non ci si potrebbe andare a piedi. Però non vedo mai nessun ciclista che la frequenta perché è un po' particolare, ha delle carreggiate variabili e non è fruibile dalle persone a piedi. Poi vediamo anche, e lo sento ripetere da diverse persone da un po' di tempo a questa parte, che andremo a sacrificare degli ambienti naturali particolarmente belli lungo il fiume dove chi va magari il mattino o la sera tardi incontra anche dei caprioli, degli animali selvatici che vanno a bere lungo il greto del fiume Lambro. Poi abbiamo il problema di questa cementificazione che è andata avanti e ha portato a costruire tanti capannoni, tante case sul lato sinistro del fiume. Ora, questi capannoni sono in parte anche dismessi, alcuni mai venduti, mai utilizzati, tanti sottoutilizzati. E in un momento di crisi come questo con la guerra in Ucraina, noi ci rendiamo conto di quanto siamo vulnerabili e abbiamo bisogno di grano, farina, avena, alimenti per animali e anche addirittura fertilizzanti. Ora, perché andare a precludere un ulteriore spazio che potrebbe dare sostentamento a tutti noi? Perché tutti noi viviamo di ambiente. Tutti noi tutti i giorni mangiamo, beviamo e vediamo che dobbiamo andare a dipendere dall'estero anche per delle cose elementari che potremmo avere a casa nostra se il territorio fosse ben gestito. Torniamo da Roberto Cerati. Poco fa Bramani ha accennato a finanziamenti e debiti. Questi finanziamenti arrivano tramite il progetto Borgo Ospitale. Non vi pare un'ottima occasione per approfittarne? Allora, Borgo Ospitale eroga quasi 17 milioni di euro intervenendo con progetti soprattutto per piccoli comuni. Questa è la cornice però, perché l'idea guida secondo me dovrebbe essere quella per cui i soldi sono importanti se finanziano delle idee forti, se c'è una progettualità forte da sostenere. Altrimenti sono un po' delle occasioni perse per il territorio e anche per le tasche poi nostre perché non avviano dei processi virtuosi. Franco prima ha illustrato bene le tante criticità che sono legate alla realizzazione di questa strada. Però appunto voglio ricordare che Borgo Ospitale utilizza un finanziamento che deriva da un indebitamento di circa ormai 4 miliardi che la regione Lombardia può fare. In questo senso è importante che le risorse siano ben calibrate e in qualche modo impiegate su dei progetti ben valutati, spiegati, fatti conoscere anche alla popolazione. Da parte della comunità montana manca un po' questa opera, non ci ha spiegato per esempio con quali criteri sono stati selezionati i progetti e leggendo appunto il piano Borgo Ospitale molte opere sembrano un po' slegate tra di loro e se vogliamo poco giustificate. Ho letto diverse schede, a titolo di esempio vorrei citarvi per esempio l'intervento a Barni per realizzare un posteggio, è un milione di euro l'investimento e la scheda giustifica il tutto in quattro righe. Capite che è un po' superficiale chiedere tutti quei soldi per un posteggio che poi risulta essere di soli 50 posti, quindi 20 mila euro a posto macchina. Può essere importante per l'abitato di Barni, però l'infrastrutturazione turistica riguarda un territorio più ampio, quindi dovrebbe avere una valenza anche per tutto il triangolo lariano. E lo stesso possiamo dire per un progetto che riguarda la Snigo, 900 mila euro sempre per un posteggio di una trentina, credo, di posti auto. Dico credo proprio perché non viene spiegato di che tipo di progetto si tratta, quindi anche questa è una carenza particolarmente grave. Se posso dire e spiegare meglio cosa intendo per un progetto forte, un'idea guida forte. La ciclovia Milano-Ghisallo viene citata nel piano paesistico regionale come un'opera interessante dal punto di vista proprio regionale. Ecco, questa può essere l'idea forte e attrattiva per il territorio da sostenere. E' su queste idee che bisognerebbe a questo punto dedicare delle risorse e delle forze. Franco Bramani, quali sarebbero i problemi pratici per l'abitato di Scarena? Sì, ne abbiamo già parlato e parecchie persone adesso si rendono conto di quanto stiamo bene adesso tranquilli e di tante persone che vengono da fuori per cercare questa tranquillità che andrebbe persa realizzando soprattutto una strada lungo il fiume. Andrebbe ad alterare questi preziosi equilibri. Vediamo come sono mal costruite le periferie delle città e le città e perché andare a precluderci quello che già abbiamo per portarci in caso un traffico sfrenato e anche a livello di sicurezza. Poi ci sarebbero delle criticità relative al problema della naturalizzazione o meno del fiume. Abbiamo già raccontato che il fiume nel 1993 è stato cementificato. Uno studio dell'Ersaf, che è un ente regionale, ha proposto ed è stato approvato dalla Giunta regionale questo progetto di rinaturalizzazione che andrebbe a confliggere con la realizzazione di una strada proprio sull'argine. È importante il discorso della rinaturalizzazione perché uno si è verificato che lo scorrimento delle acque è veloce e a valle crea problemi. Non permette alle acque fluviali di penetrare, alimentare le falde freatiche e tutto attorno ci sono tantissimi acquedotti che attingono a queste falde. Ci sono gli acquedotti di Asso, di Canzo, di Caslino, di Castelmarte, di Proserpio, di Ponte Lambro. Se pian piano andiamo a impoverire le falde e vediamo come sono questi momenti così alternanti col clima che molto subisce gli sbalzi, dobbiamo cercare di ottenere delle risorse sempre valide, capienti nel sottosuolo. Poi c'è il discorso delle isole. Se andate a passeggiare, tante persone me lo fanno notare, lungo il fiume vedete queste isole in mezzo proprio all'alveo dove crescono rapidamente le piante e non è una pianta che per caso viene asportata dall'acqua forte che potrebbe esondare, ma lì ci sono migliaia di piante che sono nell'alveo, vi invito andatelo a vedere nella parte medio-bassa, anche di alto fusto che cominciano a avere problemi di stabilità. Per cui in caso di forte precipitazione sarebbero a rischio per tutta la zona. A livello tecnico-ambientale hai accennato ad alcune criticità, ma sappiamo che ve n'è un'altra. È quella della roccia, della montagna. Se noi partendo con l'occhio da caslino andiamo verso destra, verso scarenna, vediamo questa continuità di rocce di due tipi, ma vediamo a un certo punto uno stacco netto e vediamo questo torione a sé stante, non inglobato nella continuità della parete. Questo torione era già isolato prima e leggermente più debole del resto. Se è stata sollecitata la roccia dietro con delle trivellazioni e con degli innesti di candelotti che hanno generato esplosioni, è evidente che quella era la parte critica che poi è scesa a valle, oltre ai problemi critici che abbiamo visto per il lambro che è stato cementato in precedenza. Il nostro territorio ha una forte valenza turistica, in esso rientra anche l'area di scarenna. Prima ha accennato che come coordinamento lambar proponete una ciclovia. Possiamo entrare maggiormente nel dettaglio di questo progetto? Sì, certamente. Intanto puntare sul turismo è sicuramente un'ottima idea e lo dichiara la comunità montana ufficialmente nei suoi documenti. Proprio leggo testualmente che la comunità montana dichiara che il turismo rappresenta un'ottima, se non l'unica opportunità per lo sviluppo locale nel territorio del triangolo lariano. Anche in considerazione del declino non rimediabile delle attività artigianali e di piccolo commercio. Io direi che su questa analisi si può concordare pienamente. Allora si tratta di sviluppare questa idea forte di turismo a cui accennavo prima e il punto di partenza è proprio quello che è già presente nel piano paesistico regionale, cioè sviluppare una ciclovia di valle o anche un percorso ciclopedonale di valle. Questo perché la mobilità lenta aiuta a conoscere il territorio. Attraversandolo si apprezzano tutte le caratteristiche. Si possono conoscere per esempio le cascate della Bistonda, a Caslino, come pure arrivare ad Asso, ammirare il paesaggio delle Grigne dall'inizio dei prati di Scarena e poi, perché no, proseguire oltre, arrivare ai mulini e in pratica apprezzare tutto quello che il territorio può offrire. Il problema in effetti di Asso, come pure di altri comuni come la Snigo o Barni, è che sono attraversati da una strada. Il turista in macchina appunto passa oltre, non si ferma, cioè punta direttamente a quello che è oltre questi paesi. Quindi una ciclovia significativa. L'importante è che sia un'opera significativa. Direi dalle sorgenti dell'Ambro si può arrivare sempre lungo il fiume fino a Milano. Un progetto di questo genere diventa interessante, diventa anche una valorizzazione del territorio, lo rende attraente per il turista che lo vuole visitare. E credo che questa opera appunto poi possa essere articolata anche nei vari territori con ulteriori servizi. Per esempio Asso ha sicuramente bisogno di attrarre delle persone. Scarenna si presta come area perché è un'area in piano su cui si può realizzare un anello come al Segrino, un bel percorso circolare. Se si aggiungono anche alcuni servizi come per esempio un parco giochi attrezzato, anche le famiglie che possono oltretutto arrivare in treno, quindi senza utilizzare la macchina, possono arrivare in treno in quest'area e poi scegliere quello che è più consono, quindi fermarsi nell'area attrezzata, fare un percorso circolare, oppure se arrivano in bici per esempio col treno potersi spingere anche oltre verso la valle, raggiungere appunto anche la Snigo, Barney, che avrebbero un beneficio di tutto questo movimento di persone. Ecco in questo senso allora i progetti se finanziati riescono a trasformare il territorio e ad essere in qualche modo appunto un'occasione, altrimenti se non sono ben costruiti sono una così, diciamo un'occasione persa, un finanziamento che poi non dà risultato. Io credo che il valore di queste iniziative sia proprio nel coordinare i comuni, nel coordinare e fare in modo che pensino insieme, non ognuno per sé la promozione del proprio piccolo territorio, ma appunto un qualcosa che li coinvolga tutti e che dia un risultato visibile poi al turista che arriva da fuori. E per questo progetto servono risorse, come trovarle? Sì è vero, servono risorse, ecco in questo periodo il PNRR offre molte risorse anche per questi progetti di mobilità lenta. La regione Lombardia sto constatando come spesso offra molti bandi che sono rivolte alle più disparati interventi anche per le aree di montagna. Però se non fossero disponibili queste fonti di finanziamento credo che occorra riconsiderare i progetti del Borgospitale nella funzione che dicevo prima, cioè riorientarli su un qualcosa di molto forte. Anche perché se vogliamo appunto esaminare come dicevo Borgospitale la parte debole è proprio quella che analizza i benefici attesi da questi interventi. Si tratta di un paragrafetto di appena 4 righe e giustificare questi quasi 17 milioni di investimenti in poche righe mi sembra abbastanza superficiale. Mi sono sempre chiesto che se la comunità montana avesse dovuto rivolgersi a una banca anziché alla regione per ottenere i fondi, come avrebbe potuto ottenerli con queste sole 4 righe? Forse si sarebbe sforzata anche di giustificare meglio gli interventi, spiegare come si attende questo aumento del 15% della presenza turistica, andando a indicare chi dovrebbe fare le rielevazioni, come, con che periodicità, in modo da garantire che i soldi impiegati siano ben spesi. Concludiamo con Franco Bramani, ora come proseguirà l'attività del coordinamento? Dovremmo fare anche ad Asso un ulteriore punto di informazione, dei banchetti, proseguiamo con la raccolta firme, non è indispensabile, ne abbiamo già raccolte parecchie, abbiamo capito che c'è un interesse da parte della popolazione, a noi interessa vedere questa voglia di conoscenza e di mantenere al meglio il nostro territorio. Grazie.